Mi aspetto parenti, mi aspetto amici, mi aspetto l'accoglienza del pubblico, che sarà super, quindi non vedo l'ora, veramente. Grazie. E che arriverà questo ragazzo al mondo? Non lo so, io gareggio per vincere sicuramente, quella è sempre stata la mia priorità, quindi ci sono avversari forti, quasi tutti i più forti sono europei, quindi sarà una gara ancora tiratissima, quella del 1.5, farò del mio meglio. Quanto pensi saranno le vuote per la tua vittoria? Leggermente più basse, mi auguro, però guarda, alla fine gli avversari sono quelli, quindi non vorrei mai, diciamo, sminuire la gara che sarà, secondo me sarà una gara molto tosta, ci sarà Welbrook, ci sarà Romanciuk, ci sarà Mertens, quindi potrebbe essere la gara dei campionati. Però ci avrai tutto il tifo a favore? Ci avrai tutto il tifo a favore, questa cosa mi gasa un sacco, perché poi io quando sento queste cose mi piace, però devo dire che in più gareggiare nella vasca del fuoritalico, io l'ho fatto per sette colli, per dieci anni di fila, è la sensazione più bella del mondo, quindi mi immagino un campionato europeo grande tifo, grande accoglienza dal pubblico di casa.